Oggi è il quindicesimo giorno dall'inizio delle ricerche di Giorgio Lanciotti sul Gran Sasso. Il 35enne di Pineto, originario di Roseto, scomparso il 21 settembre scorso dopo aver documentato la sua ascesa alla vetta orientale del Corno Grande con un video pubblicato su Instagram. Il giorno seguente, il 22 settembre, i familiari hanno lanciato l'allarme e le prime squadre del soccorso alpino sono intervenute. Una settimana fa lo status di Lanciotti a seguito della denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia è cambiato da dispersa scomparso. Significa che a coordinare le squadre di ricerca è la prefettura e significa anche che si considera l'ipotesi che il giovane non sia rimasto vittima di un incidente in montagna ma si trovi altrove. Pasquale Giannetti, esperto delle guide alpine terramane però, continua a ritenere che Lanciotti possa trovarsi sul Gran Sasso, forse nelle aree più impervie vicino alla vetta orientale o nei boschi, lungo il percorso verso Prati di Tivo. Giannetti ha espresso alcune perplessità sul coordinamento delle ricerche e ha proposto di formulare una squadra di volontari esperti per esplorare in modo indipendente queste zone. L'appello di Giannetti ha trovato il sostegno anche del sindaco di Roseto, Mario Nugnes, che ha scritto sui social che le ricerche continuano e invita chi ha esperienza di escursionismo a unirsi per esplorare i boschi. L'incontro per i volontari è previsto anche per domani, martedì 8 ottobre alle 7.30 presso i preditivo. I partecipanti dovranno firmare una liberatoria testando le competenze necessarie per le ricerche. In questo momento difficile, la famiglia e gli amici di Lanciotti mantengono la speranza, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e che offriranno supporto alle operazioni.